Sì, abbiamo raccolto l'invito che è arrivato da Monsignor Moretti di poter ospitare presso la nostra Olamagna, all'Università, una giornata, un poveriggio di approfondimento. L'abbiamo vissuta con quell'impegno che ci deve essere da laici, come istituzione laica, però è attenta rispetto a quello che accade fuori dal mondo universitario. Devo dire che è stata comunque un'occasione importante perché, seppur da profili diversi, tutti abbiamo interesse a valorizzare quella dimensione di crescita dei nostri giovani perché l'Università, in questo senso, diciamo in accordo anche con quelle che sono le parole di Papa Francesco che ha letto nelle università, con le definite, un cantiere di speranza, l'Università guarda i suoi giovani che sono il presente e il futuro della nostra comunità e quindi ovviamente sa quanto sia importante l'elaborazione delle conoscenze e quindi la ricerca però quanto è anche importante la trasmissione, diciamo, la formazione della persona e quindi anche curare, diciamo, gli aspetti che in qualche modo sono decisivi nella formazione appunto dei nostri giovani per renderli più forti, liberi di poter scegliere anche quali sono le cose in cui credono. E devo dire poi dal punto di vista chiaramente istituzionale è un modo per porre in maniera chiara e corretta il rapporto tra le istituzioni offrire, diciamo, abbiamo le strutture, le abbiamo costruite anche nell'interesse del territorio non c'è soluzione della provincia di Salerno che potesse garantire un'accoglienza di questo tipo l'abbiamo lealmente fatto perché crediamo che sia anche un modo per far conoscere le nostre strutture a coloro i quali poi lavorano tutti i giorni sul nostro territorio e quindi possono anche, come dire, proporre, diciamo, l'università come modello di sviluppo del nostro territorio.